amiche ed amici della lettura salve oggi con noi c'è un ospite specialissimo non ha bisogno di presentazioni ma per quelli più giovani gli chiederemo di presentarsi comunque premio urania premio vegetti uno dei fondatori del movimento connettivista permettetemi di presentarvi sandro battisti ciao sandro ciao buongiorno a tutti piacere di essere qui grazie mille piacere mio e grazie per l'opportunità come stai molto bene grazie devo dire che questi in questi giorni sto editando un mio un mio racconto e anzi una noveletta alla fine e quest'anno ho scritto poco stavo facendo un po di conti personali ho scritto poco ma in realtà ho curato molto e fatto altre attività collaterali al mondo al mondo editoriale al mondo creativo e sono comunque molto soddisfatto di quello che è uscito fuori e la scrittura alla fine non è non è propriamente tutto ma fa parte di un mondo variegato in modo tale che io non riesca mai ad annoiarmi questo è un grande obiettivo raggiunto sandro per chi non ti conosce partiamo dall'inizio chi è sandro battisti allora sandro battisti cercherò di essere breve sandro battisti è un autore che da più di 30 anni cerca di esprimere con convinzione le proprie visioni perché per me la scrittura è una visione più che più che un messaggio visioni che ho sempre ritenuto assolutamente uniche mi ricordo che i primi 90 mi mi guardavo in giro con con la limitatezza delle tecniche dei mezzi a disposizione che c'erano allora però mi guardavo in giro e non trovavo assolutamente nulla che potesse essere paragonabile a quello che proponevo io ovviamente sono passati 30 anni cioè le mie proposte di allora se le dovessi rivedere non mi azzardo proprio stanno lì nel cassetto però se mi dovessi rimettere a vederle ora mi verrebbe un mezzo colpo nel senso che chiaramente l'esperienza di 30 anni di di scrittura di editing di e di trucchetti di trucchetti vari si fa sentire però comunque già allora non riuscivo a trovare equipollenti in giro e e sono comunque a maggior ragione adesso convinto di essere un po una una mosca bianca nel panorama editoriale italiano è un po la mia cifra stilistica che che da tempo ho deciso di di rafforzare nel senso curare ma in modo tale che che sia io uscire fuori e che sia riconoscibilissimo cioè non sono disposto a mercanteggiare sulla sulla mia scrittura sulla sul mio modo di proporre le idee per ottenere una maggiore visibilità non sono assolutamente interessato non lo trovo giusto e e e perseguo anzi quella quella caratteristica che mi contraddistingue entriamo subito a gamba tesa prodotti fan service tu ovviamente suppongo sia contrario come dicevo un una soglia critica sulla noia che mi che mi sbarra molte cose io ho bisogno di alimentare la mia la mia curiosità interiore la mia ricerca verso argomenti o immagini o quant'altro che mi che mi sgorgano nella mia coscienza e ho bisogno di farlo in un modo autonomo raramente può essere un film una serie che tra l'altro film ne vedo pochissimi serie non le vedo non ho alcun abbonamento con con piattaforme digitali a la mia curiosità sono sono ma non so cose 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 oppure qualche qualche immagine che fuoriesce da un romanzo di qualche altro autore qualche evento fortuito che rientra nell'ambito diciamo esoterico slash occulto che mi che mi fa sbarrare gli occhi e mi impone un'attenzione che prima non aveva determinate cose cioè io preferisco farmi influenzare dal continuum piuttosto che da qualche entità liberista che mi propone il suo il suo telling il suo il suo messaggio che che poi alla fine diventa politico non mi sono interessato a questo questo ordine di cose sandro come è nata la tua passione per la scrittura quando è che hai sentito quell'esigenza di comunicare agli altri guarda ne parlavo giusto ieri sera con un amico che che conosco dai tempi delle superiori quindi più di 40 anni fa che che mi è venuto a trovare e ricordavo che la prima il mio primo impatto con la scrittura fu nei primi 70 io sono del 65 per cui nei primi 70 avevo 7 8 anni e in tv davano quella 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 magnifica serie che era l'odissea e io ne ero così affascinato da mettermi sulla macchina da scrivere a fare una un riassunto di ogni puntata quello fu il mio primo il mio primo impatto con la scrittura una una necessità di di rielaborare quelle racconti magnifici quelle visioni quella fotografia quella quel modo di impressionare lo spettatore che che era di 50 anni fa e e ho voluto fermarlo sulla carta questa è la mia prima prova non autoriale ovviamente la mia prima prova furono furono dei versi in realtà e cominciai intorno ai 18 19 anni a scrivere scrivere poesia lasciamo perdere che su cosa abbia scritto però non è non è tanto importante quello quanto la l'attitudine che si è che in qualche modo si è sbloccata ed è sbocca verso verso il mondo esterno ho scritto per anni solo solo poesie essendo sicuro ma io non farò mai narrativa mi dicevo perché non ho proprio la capacità e poi all'improvviso non so come ah sì vedendo vedendo il film hardware dei primi 90 e e mi uscì fuori il primo il primo racconto e e da lì insomma è stata tutta tutta una cavalcata primo racconto che 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 propose stampa alternativa nei suoi famosi mille lire e uscì nel 90 91 non dico forse no 91 forse non ricordo e fu quella fu quello il mio inizio verso verso l'arte della narrativa invece come lettore che cosa legge sandro battisti a un un genere preferito più di genere allora innanzitutto in ordine temporale il genere che più mi ha mi ha mi ha colpito è stato quello che oggi chiameremmo weird per cui autori come alger blackwood shirley jackson la casa degli invasati quindi di blackwood dei salici che mi ha fatto saltare più volte per la sorpresa mentre era immerso nella lettura un autore straordinario un autore che ha bisogno di una traduzione assai precisa e attenta perché l'uso che faceva lui della parola essendo anche membro della golden down conosceva l'importanza esoterica della parola per cui l'uso che lui faceva delle parole era attento e mirato quasi al limite della poesia direi e e una cattiva traduzione può distruggere il lavoro di una vita così attento e qualificato e mi sono accorto che che genere fantastico insomma era era nelle nelle mie corde per cui da lì a trovare cavalieri elettrici la libro curato da daniele brolli negli anni 90 che parlava di cyberpunk fu una delle degli incidenti di percorso che che mi hanno che mi hanno sempre assistito e e la folgorazione del cyberpunk di leggere il cyberpunk mi mi diede la la cifra finale la la chiave di di interpretazione personalissima del mondo weird del mondo science fiction del mondo altro esoterico insomma ha costituito le le fondamenta della mia narrativa successiva e ovviamente poi c'è da 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 un po' di anni c'è anche un discorso politico diciamo ma più che politico un discorso ideologico contrario alle regole di mercato mettiamola così contrario al al mondo liberista mi piace curare una collana per l'editore dellos digital una collana digitale ovviamente che si chiama non a line object mi piace curarla e proporre narrativa slash saggistica tutta incentrata sul tema portante che non è il mercato che deve comandare la cultura e l'etica ma deve deve essere qualcosa di più intrinsecamente di nostro dominio nostro intenso in senso umano cioè il mercato un'entità inumana che ci comanda con le sue regole completamente inumane volte esclusivamente a un profitto di cui non ne beneficia paradossalmente oppure di striscio ne beneficiano degli umani ma che in sostanza alimenta una una forza inumana aliena al nostro mondo e e cresce e cresce di un di un ordine di grandezza questo 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 profitto questo 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 business diventa qualcosa di di alieno e che comanda sulla nostra sulla nostra sulla nostra genia sul nostro mondo sulle ci impone le sue regole assolutamente finte assolutamente per conto mio non condivisibili io non voglio che la mia vita sia dominata dal business dal profitto e da e dalle regole di questo tipo e quindi per dirla breve cresce è cresciuto in questi in questi ultimi anni anche l'interesse il bisogno di di fare un discorso controcorrente completamente controcorrente perché come mi piace dire un po un po per le tante realtà che che vivo editoriali noi vogliamo fare cultura non mercato ho due domande da farti e ovviamente sentiti libero di non rispondere la prima domanda è legata a un passaggio della tua precedente risposta quando tu dici oggi di oggi chiameremo weird secondo te questa esigenza di inserire tante etichette anche all'interno diciamo di un di un genere letterario quello della fantascienza che come dire rispetto magari ad altri a numeri più piccoli crea una divisione negativa oppure crea una categorizzazione positiva ma credo che sia insito nella natura umana dare dare un nome alle cose è un'esigenza anche anche esoterica alla fine se se penso a questo tipo di esigenze mi viene in mente per esempio la storia del nome segreto di roma che era un nome diverso che racchiudeva l'essenza della città stato dell'impero successivamente e che pronunciata avrebbe in un contesto sbagliato avrebbe definito un momento di grave pericolo per per l'impero per lo stato romano perché questo perché dare una vibrazione dare una definizione dare una categorizzazione e è proprio nel nell'ambito dell'umano e dell'oltreumano cioè noi abbiamo bisogno di catalogo io ti dico sono un lettore e tu la prima domanda che mi fai a bene cosa chi leggi perché perché devi dire che sei un lettore è bello oppure sei un ascoltatore di musica quale musica cosa ti piace hai bisogno di circoscrivere in qualche modo anche per far capire cosa ti piace chi sei che cosa ti interessa per cui io non sono così contrario a una a dare un nome alle alle emozioni se fossi se fossi contrario probabilmente nemmeno scriverei cioè dare dare un senso una un ordine di grandezza e di e di collocazione alle mie percezioni alle mie visioni alle mie alla mia voglia di riportare sul foglio quello che sento in quel momento quello che ho da raccontare sono umano quindi ho bisogno di questo ecco tu sei uno dei fondatori del movimento letterario connettivista si non è semplice fantascienza giusto no volendo sintetizzare come è nato e che cos'è il movimento letterario connettivista il movimento connettivista che alla fine di quest'anno farà 20 anni di vita è stato un momento è un momento esaltante fu nacque in un momento in un in un contesto in cui nel fandom del fantastico science fiction più che altro c'era un fermento che non aveva nome non aveva bandiera non aveva forma e in quel in quel periodo di di venti anni fa eravamo in contatto io giovanni de matteo e e marco milani eravamo particolarmente in contatto per avevamo voglia delle cose da dire nemmeno noi sapevamo bene che cosa volevamo dire ma avevamo questa esigenza di di cavalcare quell'onda sommersa di di cose non dichiarate per per affrontare un discorso nuovo in sostanza ci trovamo a giovanni de matteo definì un in un momento assolutamente prematuro il manifesto del connettivismo lui me lo me lo propose tipo più di un anno precedentemente alla nascita poi del movimento connettivista mi fece leggere questa cosa e io rimasi meravigliato dico oddio questa è una cosa stupenda ma che ci facciamo e ci siamo guardati tutte e due e non abbiamo non abbiamo trovato una collocazione poi mentre scartabellavo una anno dopo circa mentre scartabellavo il mio hard disk perché stavo stavo cominciando a scrivere il primo il primo romanzo sull'impero connettivo quello che sarebbe stato il primo romanzo non avevo idea allora di di farne una saga e mi 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 saltò gli occhi questo documento di questo che cosa lo apri e mi resi conto leggendolo che era arrivato il momento che il connettivismo doveva nascere e in sostanza ci ci siamo interrogati sulla poetica sull'estetica sulla sulla definizione del del nuovo che sarebbe che sarebbe venuto da lì in poi e quindi una un filo rosso che legasse che so la tecnologia all'estetica della fantascienza al post umanesimo alle scienze dell'inesatto quindi scienze caotiche le scienze la matematica dei frattati la la fisica quantistica con con gli interessi che l'umanità filosoficamente aveva sempre eseguito nella sua storia anche preistorica per cui che so sciamanesimo mi viene in mente farei sarei facilmente avrei facilmente la capacità di incastonare determinate determinate nozioni mi viene in mente lo sciamanesimo mi viene in mente lo l'uso delle delle droghe psichedeliche che questi questi uomini usano per indurre la trance e ma una trance che può provenire anche da un ballo sfrenato o dalla da un parlare in determinati modi insomma tutte queste cose comunque striscianti sotto la soglia della della percezione che usualmente usiamo hanno costituito questo interesse questo questa questo connettivismo che vuole voleva e vuole continua a guardare verso il futuro legato al passato ecco ovviamente il connettivismo non è una cosa scritta su delle tavolette di terracotta non è scritto nella pietra e questa è la mia visione del connettivismo ma giovanni te ne può dare un'altra marco un'altra ancora luca bicremo che è subentrato dopo sei mesi nel connettivismo ma che quella stessa notte fece nascere la nazione oscura la sua creazione artistica di questa nazione intesa come atto artistico micronazioni intesa come atto artistico e che ovviamente non ci conosceva e noi non conoscevamo lui può dire la sua la sua visione delle cose luca picremo che è poi l'editore della kippo l'officina libraria per inciso la kippo che in qualche modo l'organo ufficiale non dico dei connettivisti ma della della dell'attitudine connettivista io stesso sono sono nella kippo e eppur non tirando fuori magari opere connettiviste il nostro metodo di produzione è assolutamente prima di tutto libero non abbiamo non abbiamo scadenze particolari non non abbiamo un piano editoriale stringente preferiamo che gli autori si prendano il loro giusto tempo per creare siamo interessati alla qualità appunto non non al cadenzare rigidamente le uscite perché il mercato vuole così non ce ne frega nulla di questo preferiamo davvero che quando un autore esce una un'antologia esca è perché è davvero completa è davvero c'è stato detto tutto quello che si voleva dire e e quindi quindi la kippo è in qualche modo con questo metodo connettivista è in qualche modo la la vetrina della della politica connettivista permettimi di usare questo questo termine forse un po improprio ma si fa politica in ogni modo già 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 parlando noi facciamo un atto politico e quindi mi piace usarli in questo con questa accezione sandro molti dei tuoi racconti appartengono al ciclo dell'impero connettivo un ciclo che si è arricchito con il passare del tempo come è nato questo universo è nato è nato dai miei interessi perché io amo la storia amo la storia in ogni sua accezione credo che conoscere conoscere il più possibile la storia gli eventi le motivazioni che hanno portato a determinati eventi sia un atto di cultura che prima di tutto salvaguarda te stesso da da chi magari ti vuole ti vuole far bere un'altra un'altra storia e e poi è un qualcosa che ti arricchisce perché non perdi non perdi le tue radici detto ciò ovviamente io sono di roma sono nato a roma vivendo a roma le vestigia di questa grande enorme storia romana mi hanno mi hanno facilmente preso quindi l'impero connettivo è nato da innanzitutto da una fascinazione enorme che io subisco per la storia di roma e e poi anche per sempre in ambito storico andando ancora più a ritroso ai sumeri subisco la fascinazione di di opere di fantastoria alla fine non so mi viene da definirla così quelli gli scritti per esempio di che su cui non voglio assolutamente entrare nell'ambito accademico perché non ho i numeri non so non saprei davvero se sposare le tesi di chi gli va contro oppure di chi li ha a favore non mi importa quello a me importa l'enorme calderone fantastico che quelle che quei libri suscitano questa questa fascinazione per per questi dei molto antropizzati o meglio questi dei avrebbero creato secondo siccino una la razza umana per degli scopi i lulu gli schiavi per da mandare nelle nelle miniere d'oro per per farli a servire ai loro bisogni e quindi queste due fascinazioni in quel momento vent'anni fa si sono unite in un in un impero che voleva essere come quello romano ma anche di più e allora mi venne pensato l'impero romano ha governato su un enorme spazio l'impero connettivo che è la causa di questi tramite l'imperio di queste di questo alieno a capo del dell'impero connettivo questo totca secondo che governa l'impero connettivo governa sullo spazio è vero ma anche sul tempo e questo mi ha mi ha permesso mi ha permesso già dall'ora già dal primo dal primo romanzo che poi è diventato anche un fumetto per la cagliostri press mi ha permesso di di gettare le basi per questo per questo discorso così longevo che non voleva assolutamente essere una saga pensavo a un romanzo così una tantum poi però mi sono accorto che che comunque mi mi prendeva il discorso mi portava a espanderlo e da lì sono nati una serie di romanzi una serie sterminata di racconti suggestioni che che travalicano un po un po quello che mi aspettavo all'epoca non avevo molte aspettative ma mi sono accorto che in vent'anni ho strutturato una quantità enorme di 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 battute io non lo so ogni tanto mi guardo indietro vedo vedo quello che ho scritto e e mi chiedo ma come cavolo ho fatto a scrivere tutta questa 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 quantità di 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 racconti romanzi di suggestioni di eh eh di antologie e e e ne rimango davvero meravigliato perché mi accorgo di quanta di quanta di quanta roba ho ho messo nel nel calderone l'impero connettivo è stato è tuttora una parte più la più la più complessa sicuramente perché eh raccontare di questo stato sospeso sullo spazio tempo che che le li renderizza come come illusioni queste due eh queste due dimensioni lo spazio e il tempo sono trattate come illusioni in cui la valuta corrente è data dall'informazione e e in cui questo questo alieno nefilim che governa una genia di postumani eh e il cui plenipotenziario è il secondo è un postumano secondo all'imperatore e uno stato perennemente in guerra per assoggettare nuovi continuo nuovi spazio tempo un po' come faceva l'impero romano che ha passato la sua storia a guerreggiare eh senza 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 tregua eh è una cosa che stimola continuamente la mia la mia attenzione e stanno finendo di uscire per 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 Delos Digital per per l'editore Delos Digital sempre in ambito digitale è un un tomo di di dieci racconti in cui eh affronto eh il tema della capitale di questo stato connettivo che si chiama Nefolm eh che è suddivisa in quartieri assolutamente speculari a quelli che erano i quartieri di Costantinopoli la nuova Roma la seconda Roma e questo per introdurre una nuova fascinazione che man mano è uscita fuori nell'impero connettivo ma soprattutto in me stesso cioè eh una volta che ho che ho scandagliato abbastanza bene Roma è stato naturale volgere lo sguardo a quella che è stata la seconda Roma a questa Costantinopoli che eh fortuitamente è stata anche la base del del romanzo con cui ho vinto il premio unale ma forse adesso sto mettendo un po' troppa carne al fuoco io e il discorso il discorso è frattale se cominciamo a a a indagare l'impero connettivo eh io mi perdo e e magari non faccio capire molto e ti faccio subito una domanda per la creazione dell'impero connettivo tu hai utilizzato a modello l'impero romano sì perché l'impero romano capisco magari non quello britannico perché diciamo la fascinazione di Roma è molto forte quindi scartiamo imperi moderni ma perché non per esempio l'impero ottomano perché non ha quell'imperium questo te lo posso dire adesso dopo anni di studio di di letture che so di Carandini piuttosto che di di altri di Barbero di altri autori storici perché l'imperium romano è qualcosa di unico che è stato poi scimmiottato dagli altri pseudo imperi quell'ottomano non ha non ha quella ha conquistato Costantinopoli certo ma non si è preso l'imperium non ha non ha acquisito quell'entità sovradimensionale questa questa governance verrebbe da dire oggi questa queste gregole questa questa forma ectoplasmica che era l'impero romano loro non l'hanno assorbito sono hanno scimmiottato quella forma lì ma non hanno quella dignità il governo dello stido il dominio il governo sullo spazio tempo è un concetto che mi affascina molto che cosa vuol dire come fa a governare spazio e tempo contemporaneamente l'impero connettivo beh perché sono illusioni per cui vengono trattate come come anche esotericamente avviene può avvenire nel senso che la realtà possiamo ne parlava anche matrix no alla fine cioè la realtà è un'opinione non è una cosa così solida dipende innanzitutto dalla tua percezione i colori che tu vedi possono essere di un tipo mi dici quella verde io magari soffro di una oppure o altre o un altro spettro visivo e le sfumature di quel verde possono possono essere oggettivamente diverse è l'energia che assume una forma standardizzata e e quindi abbiamo un canone una convenzione se io domino sullo spazio e sul tempo significa che io distruggo quella convenzione e la faccio e la rendo una illusione un canone e essendo essendo lo stato imperiale governato creato da un alieno da un nefilim che poi avrebbe creato anche la razza umana per i suoi scopi questo sempre perseguire le fascinazioni di siccina per esempio questo permette permette di restituire un un'entità sovradimensionale in grado di espandersi nello spazio tempo che ha già annullato riducendo la riducendo quel quel dominio a una a una illusione e e mi permette di fare qualsiasi cosa nel senso se non lo spazio tempo non c'è una cronologia per esempio il primo il primo aspetto è che non c'è una cronologia il discorso di adesso di ora di ieri o di domani assume tutta un'altra valenza la cali nell'ambito dell'illusione hai bisogno comunque di di scaglionare di di rendere un concetto temporale ma il tutto in un contesto illusorio quindi se io dico all'interno della 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 narrazione dell'impero connettivo adesso adesso significa ora ma significa anche un 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 infinito un infinito presente e e qui cominciamo a lavorare anche su considerazioni filosofiche esoteriche occulte e quant'altro è è una è di una difficoltà notevole perché rasentiamo l'inumano ti faccio una domanda molto precisa ci rifacciamoci ovviamente al mito della caverna di platone perché fondamentalmente iniziamo da lì se è tutta una se è tutto un costrutto mentale sul quale ovviamente pochi hanno la forza di vederlo di smontarlo o di crearlo perché parliamoci chiaramente qui parliamo neanche dell'un per cento parliamo dello 0,000 01 per cento della popolazione quando tu parli di egregore io ti capisco perfettamente credimi molto più di quanto mi senta di dire in questo momento ok il punto qual è se è tutta un'illusione anche etica e politica rappresentano poi un'illusione e veniamo alla domanda che non ti ho fatto prima secondo te l'etica e la politica creano il popolo come un creatore come colui che plasma o è il popolo stesso che crea una sua etica e una sua politica parlando di impero romano tu vieni su un terreno su un terreno che mi è praticamente congeniale perché immagina triennale specialistica dottorato tutto sulla storia medievale è il mio pane quotidiano alcuni dicono noi romani hanno fatto guerre difensive che però hanno espanso il territorio indirettamente altri dicono no i romani non si sono difesa i romani hanno attaccato mi sembra un po dura definirla difensiva c'è però una corrente di pensiero che dice quello di no esso state una serie di con cause chiediamolo a taranto chiediamolo alla dacia chiediamolo a una serie di alla britannia allora il punto è se noi siamo diciamo se il dominio dello spazio e del tempo crea un'illusione la consapevolezza di quell'illusione non rischia di far crollare tutto il sistema al quale siamo aggrappati ostinatamente quello di cui parlavamo prima abbiamo la necessità di etichette scatole per capire la consapevolezza crea creerebbe un caos che solo diciamo una una non una mente superiore ma una comprensione superiore ci garantirebbe la sanità mentale in un certo senso ma infatti l'impero connettivo il retroscena la la cultura che c'è dietro l'impero connettivo è di tipo inumano di tipo esoterico e di tipo superiore permettimi di usare questo questo termine nel senso che così come il nostro mondo che sembra regolato da delle dinamiche umane politiche ed etiche in realtà dietro c'è ben altro e e allo stesso modo nell'impero connettivo questo questo altro ha una esaltazione all'ennesima potenza rispetto a quell'umano pur essendo pur essendo una genia di postumani pur essendo un ecumene di postumani quindi potenziati superiori a noi da tutti i punti di vista ma a capo comunque di quella piramide c'è un un nefilim che è la quintessenza della potenza umana della della capacità di scandagliare il cosmo e di e di fronteggiare energie a loro negative non è non ho mai fatto mistero di avere incluso qualche cosa del canone lord craftiano nell'impero connettivo perché questi nefilim questa genia aliena è ai suoi nemici ovviamente e i grandi antichi potrebbero essere inquadrabili in questo contesto insomma la realtà anche per noi è una è una convenzione perché se tu leggi bene quello che succede dietro la realtà poi 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 avere delle sorprese opinabili certamente cioè tu la vuole leggere in un modo in un altro quell'altra persona in un altro modo ancora ma grattando questa 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 patina di reale ti accorgi che c'è altro e che cos'è quest'altro e qui cominciamo a parlare è il tra le righe è il tra le righe che non è per tutti io non sono assolutamente convinto che che il popolo la popolazione l'umanità come come entità come il gruppo riesca a dare delle coordinate le subisce non le dà da chi le subisce ok qui cominciamo a parlare una nota a margine però sentiti libero di non rispondere quando parliamo di dei nefilim no mi viene in mente subito io uomo del popolo mi viene in mente subito biglino ok illuminami perdonami traduttore dall'aramaico antico personaggio scomodo in molte in molti campi lui da una visione molto simile quindi stirpe aliena che ha creato diciamo la razza umana come razza come diciamo servitori addomesticati chiamiamoli così e però vabbè se non se non diciamo lei lei sembra sembra simile a sicci nel quasi infatti ti volevo chiedere proprio questo se se a tuo avviso c'erano stati due binari paralleli tra siccine e biglino oppure se c'era stato un contatto però non sono in grado di rispondere ma cioè quello che posso sicuramente dire che nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma nel senso che lo scibile umano ormai non si crea più nulla dai tempi dei sumeri del sempre stato un ritrattare di un aggiornare se io stesso insomma o i miei o i miei canoni o miei autori preferiti tanti tanti libri tanti romanzi e che io macino continuamente nella mia psiche cioè io non è che credo io rielaboro ma lo fanno tutti quanti insomma non è inutile inutile stare stare lì a nascondersi dietro una presupposta originalità si sei originale perché hai rielaborato qualcosa in un'ottica nuova questo sì 2014 esce un tuo romanzo che dire pluripremiato mi sembra veramente poco l'impero restaurato mi incuriosisce molto la scelta dell'aver utilizzato l'impero romano d'oriente di giustiniano primo come diciamo modello ti faccio questa domanda ti ripeto è la storia e io la adoro ti do tre alternative a giustiniano primo traiano il suo successore adriano e diocleziano tre imperatori che magari tra i primi due e diocleziano passano circa 150 anni però la domanda è come mai giustiniano primo e non uno di questi tre loro che potremmo definirli puri dell'impero romano almeno i primi due ma allora la domanda va spostata nel senso che com'è nato l'impero restaurato è nato da una richiesta che alessandro manzetti al tempo mi fece per un per un romanzo imperiale e non ricordo se lui mi chiese espressamente costantinopoli o se scelsi io costantinopoli e mi ricordo però che di costantinopoli avevo già scritto in precedenza un piccolo blocco di racconti pubblicati da da elara tra l'altro nel numero 5 del 50 del del sf europa e in cui parlavo per la prima volta di costantinopoli e mi era rimasta questa curiosità ovviamente e allora non ricordo ripeto se alessandro mi chiese espressamente di scrivere costantinopoli se l'ho deciso io però questa a un certo punto mi sono trovato a scrivere di costantinopoli di capire che volevo indagare in quella quella in quella direzione e e qual era il momento più vicino alla gloria di roma dell'impero romano unito è stato il momento di giustiniano il momento in cui è stata provata una restaurazione imperiale vicinissima alla vittoria finale ma in realtà che non è mai arrivata per per dei motivi economici alla fine perché l'impero ha subito il collasso economico di questa di questa scelta di giustiniano detto ciò quello è stato l'ultimo volo glorioso dell'impero dell'impero romano unito fra oriente occidente e e mi sembrava giusto omaggiare quel quel tentativo con l'impero connettivo che si trova a fronteggiare un un nemico che viene dal passato ma tanto non importa passato presente o futuro sono delle illusioni per cui questa vibrazione di giustiniano continua a esistere nel nel continuum de nefilim governato de nefilim e e attraverso un po questa regione del della consapevolezza connettiva come come un come un avversario che è da da fronteggiare in qualche modo traiano io lo adoro traiano lo adoro più di adriano e perché in ottica romana in questa in quest'ottica guerresca marziale romana che è il motivo di esistenza di roma dell'impero dell'imperium traiano è un po la punta di diamante cioè colui che che era generale diventare imperatore un ottimo principe come come era ultimissimo principe come era chiamato dai suoi sudditi e che è espanso sia con economicamente che territorialmente lo stato è limiti che non sono più stati raggiunti adriano non mi piace perché si è più saggio probabilmente si era reso conto che quella quello stato così sconfinato era ingestibile per cui ha ridotto alcune alcune porzioni e fortificato già si era già si stava già rinchiudendo però effettivamente anche lui è stato un filosoficamente poi una una persona notevole poi vabbè c'è stato marco aurelio diocleziano un po fa parte un po del tardo antico della decadenza a non lo so alla fine non non avrei mai scritto di nessuno di questi ciò non vuol dire che non lo farò in futuro non lo so però comunque giustiniano in quel contesto mi sembrava il personaggio più 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 rappresentativo di questa di questa decadenza che cerca di riprendersi arriva un passo dalla da riuscire in questa impresa folle e poi non aggancia l'ultimo sperone di roccia e cade giù nel baratro è una è una decadenza fascina affascinante e meravigliosa ecco nel 2023 esce che la terra ti sia lieve roma il rapporto con roma che è contenuto nella in che la terra ti sia lieve è un rapporto come dire non solo personale l'ho avvertito anche molto un rapporto spirituale che però non è legato alla religiosità o meglio alla religiosità canonica ma una religiosità molto più intima un po come era la visione del cristianesimo del paleo cristianesimo qualcosa di molto intimo di molto personale ho avvertito male o ma no ci possono stare allora il paleo cristianesimo è ben diverso dal cristianesimo che costantino a quello canonico il cristianesimo di stato a me piace definirlo così sì beh amo dire che ogni religione in realtà diventa un discorso si trasforma in discorso politico perché è una forma di controllo sulle masse io preferisco più il misticismo o lo sciamanesimo un rapporto personale col divino non mediato da nessuno da nessun altro detto ciò in questo romanzo che è l'ultimo al momento dell'ultimo romanzo imperiale perché in realtà poi ho scritto racconti nove lette ma di romanzi non ne ho più prodotti c'è una una contrapposizione come che cosa succede c'è l'impero connettivo che si è spinto in una in una decadenza estrema non c'è più totca secondo ma c'è totca ottavo mi pare e per per difendersi da questa decadenza l'impero connettivo si nasconde sotto villa gordiani a roma sotto le vestigia di villa gordiani e e da lì organizza un rimbalzo verso un nuovo desiderio di conquista di di espansione imperiale di restaurazione alla fine anche qui torna il discorso della decadenza che cerca disperatamente di di rimbalzare verso un nuovo un nuovo periodo aureo e la roma la roma è quella dei giorni nostri quella pre pandemia e e io ho voluto legare le suggestioni weird che respiro che respiro in queste enormi città in cui si si vive ma possiamo dire da da 3 mila anni in realtà il tessuto il tessuto di roma ha visto presenze che si presenze umane che si spingono fino a 500 mila anni fa l'uomo di sacco pastore ha una datazione che è uscita fra i 250 mila ma anche i 500 mila anni fa significa che questo territorio si vive ininterrottamente ci sono tracce energetiche antropiche che hanno mezzo milione di anni voglio dire se se ti fermi un attimo a pensare a queste norme cifra questa vertigine tu tu respiri energie mai sopite di qualcosa di talmente arcaico da superare qualsiasi qualsiasi dimensione umana e e questa vertigine weird per esempio parlando di dell'uomo di sacco pastore ma anche di di quello che è successo dopo di di tutto il respiro storico e psichico di questo luogo che è roma l'ho voluto fissare nel presente è stato un esperimento per contestualizzare un po un po più in modo fisico l'impero connettivo nel nostro momento storico e ovviamente ci ho messo dentro le mie fascinazioni esoteriche le mie le mie esperienze in tal senso per esempio nel nel romanzo racconto di di quando di quando il protagonista desidera desidera trovare i soldi per esempio perché ne ha bisogno e e vede e li trova cioè la sua volontà è talmente forte da modificare il il reale e da trovare questi soldi oppure che banalmente quando gli serve un parcheggio e lo trova cioè queste sono tutte cose che ho vissuto che vivo continuamente nella nella mia esperienza quotidiana se ho bisogno di qualcosa e mi concentro abbastanza da da rendere quella 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 voglia una volontà e il continuo mi risponde adeguatamente e io non posso che che adorare queste queste forme di realtà distorta nel senso di realtà che che si modifica sotto sotto la mia forza ecco ho voluto un po restituire queste queste sensazioni legate al mio quotidiano e renderle nell'impero connettivo oggi qui a roma qualcuno la definirebbe legge dell'attrazione ci può stare ci può stare sì 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 sandro via che attrae alla fine è parliamone parliamone certo sì è il problema in quel caso almeno nel panorama italiano per quello che ho visto è come si sfrutta da un punto di vista economico poi questa legge dell'attrazione nel senso tu prima parlavi della dell'essere in opposizione alle leggi di mercato e purtroppo diciamo questa 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 visione della legge dell'attrazione oggi viene purtroppo venduta quando poi io condivido quello che hai detto in qualche caso l'ho sperimentato in prima persona come te e il punto è il punto dovrebbe essere dare più che ricevere invece purtroppo ci sono delle delle esperienze come dicevi tu delle esperienze sciamaniche delle esperienze non spiegabili da un punto di vista razionale che vengono in un certo senso piegate alle leggi di mercato ed è svilente perché poi si si rischia di essere tra virgolette additati a quella specie di pseudo venditori dell'ultima ora che ricordano molto signore poi che sono state arrestate per truffe sandro i tuoi personaggi i protagonisti delle tue storie quanto è forte la realtà storica rispetto alla fantasia all'immaginazione perché noi abbiamo parlato di giustiniano primo abbiamo parlato del dell'impero romano d'oriente della stessa roma che diventa protagonista al pari diciamo del non solo sfondo ma protagonista vero e proprio quanto c'è di reale di storico e quanto invece quanto spazio alla fantasia la base storica è rielaborata sotto la mia ottica fantastica posso risponderti brevemente così non saprei darti una persona grossolanamente potrei dirti 50 e 50 ma ho il sospetto che non sia così così aderente la verità poi la verità è un discorso soggettivo parlavamo di vista prima sì io leggo leggo molta storia leggo molto forse forse leggo più storia che che narrativa fantastica e quindi conoscere la storia mi induce ad avere una piattaforma su cui poi elaborare la mia fantasia posso dirti questo ecco mi verrebbe da chiederti però rischiamo di uscire fuori dal diciamo da questo discorso ma sì te lo chiedo chiedimelo certo da scrittore e da scrittore premiato noi ricordiamo tu sei un urania e non solo quindi da scrittore premiato e da curatore di antologie di riviste come te lo spieghi questa questo amore riscoperto da parte degli italiani per la storia era un'esigenza che c'era nell'aria e poi ha trovato un canale un media per esempio in alessandro barbero oppure non lo so perché ma c'è davvero questo amore e me lo sono chiesto cioè un conto è una una conoscenza spolverata di accademico che che può che può essere pilotata anche qui dall'alto no qualcuno decide che la storia all'improvviso può vendere più di della cucina e allora percorriamo il discorso discorso storico e si organizzano trasmissioni si organizzano eventi a cui la gente risponde un po come come un richiamo così ma senza un vero interesse senza una vera passione la passione per la storia o per la cucina o per la moda o per le macchine o per quant'altro tu ce l'hai a prescindere non è pilotata è una tua inclinazione e e quanti davvero in italia non voglio non voglio sapere all'estero non ho non ho la sensazione dell'estero non ho la contezza dell'estero ma in italia quanti davvero amano la storia credo che sia questa la vera domanda da polsi risposta a questo possiamo parlare di altro possiamo continuare non lo so no io mi fermerei qui perché nella tua risposta c'è già c'è c'è il tra le righe che è grandissimo sandro tu che tipo di scrittore sei quando crei un per esempio quando hai creato l'impero connettivo sei partito da un dall'immaginazione da da un sogno onirico da un immagine che all'improvviso si è creata nella tua mente oppure in maniera del tutto cosciente e creato lo sfondo le trame le sottotrame no 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 l'immagine l'immagine che si crea nella mia mente è decisiva spesso l'ho già detto magari di qualche in qualche altra sede ma spesso passo un tempo precedente a magari prendere appunti slegati fra loro e il filo che poi unisce tutte quelle suggestioni mi viene davanti agli occhi quando sono occhi chiusi sotto il getto della doccia quello è un momento catartico per me un momento rivelatore e lo sento sento la folgorazione proprio vedo la folgorazione di cavolo eccolo eccola la storia e e da lì nasce tutto da lì nasce tutto quindi non c'è nulla di preordinato non non posso preordinare perché mi annoierei poi a scrivere io devo scoprirlo man mano che che produco certo c'è una sensazione di fondo ma come questa sensazione di fondo poi arriverà alla fine io quasi sempre non lo so spesso il titolo è il sigillo finale raramente invece il punto di inizio raramente è così non 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 voglio non voglio il reggimentarmi non ne ho alcun bisogno la noia mi ucciderebbe torniamo alla noia che è il nemico pubblico numero uno personale numero uno tu hai una routine di scrittura riesce a scrivere tutti i giorni ti dedichi alla scrittura tutti i giorni e degli onari né nel senso che prediligo se parliamo di scrittura creativa prediligo la sera e probabilmente perché ancora lavoro perché il giorno devo dedicarmi a annoiose questioni che di cui sono sempre meno che insomma non mi non mi interessano sempre meno però io ho una palestra giornaliera tutti i giorni feste giorni feriali natale capodanno pasqua ferragosto io scrivo sempre sul blog sul mio blog hyperhouse wordpress com quella è una e come andare e come tenersi in forma fisica per me è una una forma psichica nel senso che io devo scrivere tutti i giorni lo faccio da ormai più di vent'anni che è un blog in realtà ne avuti due però e l'attività è sempre quella da più di vent'anni e perché sono estremamente convinto che facendo un'attività giornaliera di scrittura uno non mi arrugginisco due mi evolvo magari racconto segnalo articoli usciti che so su fantascienza com oppure su altre su altre testate che che quotidianamente redazionalmente scandaglio alle ricerche di notizie utili e magari da lì avere anche suggestioni personali perché no perché poi scrivo dei post estemporanei sulla su qualcosa che mi gira in testa slegato da qualsiasi spesso slegato magari altre volte sono sono legati qui quelle quei pensieri e io devo scrivere tutti i giorni però questo sì e e poi magari per l'attività vera e propria di narrativa non è detto io nel 2022 in realtà ho scritto 22 29 let è un racconto breve ho fatto altro però sì ho fatto altro ho fatto curatele ho fatto cure ho curato dei progetti di performance ho curato sto curando altri progetti per kippo insomma la mia necessità di non annoiarmi mi porta anche intervallare la scrittura perché scrivere è estremamente faticoso scrivere dell'impero connettivo è di una fatica estrema perché sto parlando di qualcosa che non è umano e e vado sempre oltre il limite delle parole e e poi quelle parole le devo far far digerire al lettore e soprattutto le devo far digerire a me stesso e quindi ho bisogno di un di processi di editing e lunghi accurati e ed è sempre una fatica questo sì parliamo di una delle ossessioni degli scrittori e delle scrittrici il blocco famoso blocco dello scrittore ti è mai capitato ma certo a chi non è capitato come ne sei venuto fuori con con una forma con un atto di imperi a volte ti posso dire che l'ultima volta tipo a metà novembre mi sono accorto che erano più di sei mesi che io non scrivevo più narrativa e mi è preso una sorta di panico e avevo preso degli appunti nelle settimane precedenti come al solito slegati fra loro una coerenza emotiva c'era ma niente di davvero in grado di collassare in una in una storia e preso il panico oddio con tutte le cose personali che mi sono successe io non so più scrivere so intimamente che non è vero perché dopo 30 anni passa di scrittura non è vero che tu non sai di scrivere è una follia che però basta a gettarmi nel panico e grazie a degli eventi personali successi in quei giorni mi sono quasi imposto di scrivere e della cosa che sto editando adesso è meravigliosa a me piace molto però ecco è funziona anche così non ho una regola nemmeno in questo mi concedi due domande impertinenti ma come no la prima domanda impertinente tra i tuoi romanzi i tuoi racconti che racconti pubblicati anche in diverse antologie quale lavoro editoriale ti ha messo maggiormente in difficoltà e quale invece ti ha entusiasmato proprio dal primo momento tutti 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 i lavori di teoriali mi hanno entusiasmato e messo in difficoltà tutti perché quando finisco di scrivere vorrei farlo la prima stesura vorrei farla farla leggere a mezzo mondo dico cavolo scritto una storia che che adoro ma ogni volta è così e e poi mi rendo conto che quando comincio il processo di editing non ho più capelli però mi metterei le mani nei capelli perché oddio come come ne esco da questo ginepraio tutti ogni volta la storia si ripete per cui li adoro li adoro tutti e sono sono dei lavori che mi hanno prosciugato il sangue tutte le volte la seconda domanda impertinente questa forse un po più personale il personaggio tra i tuoi personaggi che più hai amato e quello che più hai detestato detestato credo di non detestare nessun personaggio anche perché se davvero detestassi un personaggio probabilmente non ne scriverei quello che più amato ma ho dedicato un una noveletta silax io silax questo questo personaggio postumano a capo delle cumene postumana potentissimo ma non quanto l'imperatore perché anche psichicamente non può raggiungere la potenza di tocca e però comunque forse lui sì non sono stato in grado ancora di scrivere in modo dedicato qualcosa di tocca scritto brandelli di tocca ma di silax si silax se l'ho fatta e anzi mi ha aiutato a uscire un momento da un momento di personale difficoltà per eventi insomma del tutto personali e scrivere io silax è stato catartico questo sì e uscirà io silax uscirà durante quest'anno sempre per la collana la l'orlo dell'impero la collana digitale di delos digital questo posso darlo come anticipo ecco e io come anticipo ti dico sei già invitato parliamone di silax quando sarà il momento grazie no grazie a te sandro con l'impero restaurato tu hai vinto nel 2014 il premio urania e nel 2017 il premio vegetti ci vorresti parlare di queste esperienze beh il premio urania il premio urania è una è un'esperienza davvero perché la famiglia mondadori ti accoglie tra le sue braccia e tu ti rendi conto che stai sei in un luogo molto alto si sei in qualche modo legittimato a dire la tua la tua idea non che prima non lo sei non non hai la dignità però è quel quid impalpabile in più che che ti permette di dire beh se il curatore della della più importante collana di fantascienza italiana ha deciso anzi in quell'anno in realtà fu fu una co vittoria perché vinsi il premio nell'unica nell'unica volta in cui è stato condiviso con francesco verso per cui fu una una co abitazione però comunque il concetto che il curatore della più importante collana di fantascienza italiana abbia deciso che tu hai 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 detto una cosa convincente che che gli è piaciuta e che sfida tutte le leggi di mercato beh questo questo mi ha reso anche più sicuro personalmente insomma mi ha fatto pensare ok ho delle cose giuste da dire e devo continuare a farlo ecco mia mi ha solidificato in quella mi ha consolidato in quella quella decisione in quella forza interiore di continuare ecco sospettare una lancia a favore della dell'impero restaurato grazie certo essere premiato diciamo dalla casa editrice che in italia rappresenta un po il mercato sì con un romanzo l'impero restaurato che parte da una base antimercato si può l'apoteosi cioè è meraviglioso sì 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 concordo pienamente ti chiedo una ti chiedo una visione un attimino critiche oggettiva che cosa ma quali sono le criticità della fantascienza secondo te come genere letterario in grado di coinvolgere un pubblico di lettori come per esempio potrebbero essere i miei adorabili studenti della scuola media guarda al momento la vedo un'unica criticità quella di non credere fino in fondo alle alle proprie potenzialità e del genere rivolgersi troppo al mercato per cercarne il plauso non mi piace posso dirti questo sandro vorrei chiederti invece tralasciando la questione del mercato in che modo secondo te la fantascienza italiana potrebbe essere attrattiva rispetto a un pubblico di lettori non italiani ma io credo che la fantascienza italiana non abbia più nulla da da invidiare rispetto a quella quella anglosassona americana voglio dire ha fatto il salto gli autori di fantascienza italiani hanno fatto il salto professionale mentre c'era una certa genuinità naif nel decenni precedenti a il salto è stato fatto eccome in questi questi lustri per cui non c'è non c'è permettimi di fare un piccolo paragone con con un'autrice che non è fantascienza ma che comunque ma che comunque è italiana e e ha scritto una cosa che io che io amo alla follia che ho scoperto in queste settimane parlo di maddalena marcarini che ha scritto sedmore lo sciamano un romanzo bellissimo un romanzo che che io amo e amo regalare alle persone che che possono che possono apprezzarlo una storia di sciamanesimo islandese scritto da dio e la cosa ancora più sconvolgente è che sia stato scritto in italia e un romanzo del genere nel passato poteva poteva nascere che so in inghilterra piuttosto che che in america piuttosto che magari nei paesi scandinavi invece in italia siamo stati in grado di scrivere un romanzo di questo tipo e internazionale assolutamente internazionale potente visionario completo senza esitazioni siamo in grado di farcela questo voglio dire perché abbiamo acquisito quella professionalità che ci permette di guardare al mondo internazionale senza senza paura senza sensi di inferiorità possiamo farcela davvero all'universo narrativo sandro all'universo narrativo dell'impero connettivo appartiene anche ptaksgu 6 sì scritto però in collaborazione con marco milani sì come è stato scrivere un romanzo a quattro mani questa è una delle cose che mi affascina molto io sono un estimatore anche dei collettivi infatti uno dei miei libri preferiti è q quando il collettivo booming si faceva chiamare ancora luther blissé sì e come quali sono state le diciamo le difficoltà perché poi ogni autore scrive in un modo diciamo personale ed è ovviamente geloso delle proprie opere ma guarda io l'impero connettivo ho sempre accarezzato cioè dal momento in cui ho deciso che sarebbe divenuto una saga ho sempre accarezzato l'idea di farne un canone un codice aperto per gli altri autori cioè non volevo non l'ho inventato io rimane mio no non me ne importa nulla io voglio mi piace molto che un autore si dedichi a questa idea e la veda dal suo punto di vista in kippo c'è c'è una collana che si chiama spin off dedicata proprio all'apertura del canone imperiale verso altri autori e ci sono anche io ovviamente come come apripista ma quella collana è dedicata soprattutto agli altri autori che vogliono esplorare l'impero connettivo con marco con cui abbiamo un'amicizia ventennale più più che ventennale quasi ormai andiamo verso i 25 anni di di amicizia e collaborazioni lui aveva il suo universo zen io avevo il mio impero connettivo e ci siamo messi così la sua è stata una proposta perché non scriviamo qualcosa insieme va bene e ed è stata una bella sfida devo dire riuscire a unire due due modi di scrittura e 222 pensieri anche abbastanza abbastanza diversi è stato un continuo confrontarsi immaginare spostare di capitolo in capitolo la l'esplorazione della storia fin verso fin verso la fine che è arrivata finalmente non sapevamo ovviamente come come rendere come rendere il tutto coerente ma ci siamo riusciti in qualche modo e la cosa ci è piaciuta così tanto che che abbiamo fatto altri due esperimenti successivi di ambientati sempre nello stesso universo impero collettivo slash zen su questo pianeta che turia che che potrebbe essere grossolanamente identificato come qualcosa di simile a dun è esaltante è esaltante perché il confronto il confronto fra fra due autori ti porta sempre fuori da quella comfort zone che che è la tua che la tua casa il tuo letto le tue pantofole i tuoi vestiti e tt per forza di cose ti pone ti pone una sfida che tu normalmente non affronteresti e ti e ti dico una notizia che è rimasta sempre nascosta c'è stato un momento in cui noi quattro connettivisti di riferimento voglio dire coloro che che hanno fondato il il connettivismo abbiamo accarezzato a lungo la la possibilità di di un lo chiamavamo ottomano nel senso 44 autori che scrivono un romanzo e siamo arrivati tanto così dalla dalla fine poi per per dei motivi vari non siamo riusciti a a rendere a finalizzare questa questo esperimento ma era già lì era già tutto c'era già la sceneggiatura era stata era stata realizzata e davvero mancavano due o tre tasselli purtroppo non si è non si è realizzata è stata è stata esaltante è stata esaltante quella quell'esperienza pure se si è rimasta se non è mai nata ma quello è stato un po uno dei dei punti più alti che abbiamo che abbiamo raggiunto l'alessandro il sandro battisti editor di kippo l'officina libraria c e il sandro battisti curatore della collana narco pump punk non align the objects della deos digital sì come sono nate queste collaborazioni ma quella con cremo ormai è una una valenza ma saranno quasi 15 anni ormai che collaboriamo noi due ma è stata una cosa naturale perché connettivisti tutte e due ci siamo trovati su un terreno di comunanze ma anche di diversità stilistiche tali da da rendere naturale questa questo mio ingresso in kippo l avevo voglia di fare questa esperienza mi piaceva molto mi stimola molto e e sono entrato così in kippo l ho fatto esperienza certo perché comunque 15 anni non non passano in vano chiaro che tu alla fine di quei 15 anni sei un'altra 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 persona sei un altro skill un'altra un'altra capacità di di essere editor di essere di apprezzare una storia piuttosto che un'altra di avere l'istinto levigato dall'esperienza con con delos invece è stato un discorso di e avevo questa questa esigenza di politica di di voler fare un discorso estremamente politico di parte e discorso narcopunk come come giustamente dici tu e e prima ho scritto un abstract di cosa di cosa secondo me quella collana volesse volesse dire e poi mi sono un po guardato in giro dico che potrebbe essere interessato in kippo alla fine non volevo fare che poi sarebbe stata interessata sicuramente ma non volevo non volevo continuare essere solo in kippo perché diventa troppo autoreferenziale ho pensato a silvio gli ho proposto silvio socio io ho proposto quella abstract e lui devo dire è stato ben felice di darmi di darmi l'ok i testi che che escono sono sotto la mia responsabilità nel senso che silvio non non mette mai bocca su su quello che scelgo e e questo mi rende felice devo dire facciamo un salto nel passato in origine tra i primi blogger attivi in italia c'era zoom come è nato zoom e quanto di zoom c'è ancora oggi in sandro battisti allora zoom permetti mi forse più più alla grega zone zone ok allora come come nasce il zone dobbiamo andare parecchio indietro perché verso la fine della seconda metà degli anni 90 internet cominciava a far capolino con i suoi modem assurdi e 56k belli loro rumore e io ero in ufficio e si cominciava a sperimentare un po la connessione sempre 56k sempre sempre così sempre precaria lenta ma allora non si percepiva il sento e e mi affaccio sul mondo del circuito irc le chat insomma le chat di allora è una delle prime cose ok che che nome metto in quel momento nel nel centro del 1996 è uscito un disco che che ho adorato alla follia e nefilim zone io sono vecchio dal chettone per cui per me quello che erano i nefilim quello che sono stati filson nefilim per me ha rappresentato il punto più alto di tutto il sottogenere gothic e quindi avevo questa fascinazione per questo disco e e mi sono dato quello come nomignolo che mi sono poi portato appresso negli anni in qualche modo c'è qualcosa ancora di 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 zone in me anche se ormai lo uso davvero raramente il nomignolo ma se mi devo identificare che ne so quando faccio un editing di di un di un romanzo di un racconto e quant'altro nel titolo di lavoro metto editing underscore zone per per identificare rapidamente lo stato delle cose che l'ha fatto beh sono passati sono passati più di 25 anni da allora voglio dire quasi andiamo versi 30 ovviamente nulla rimane uguale a se stesso figuriamoci in 30 anni però comunque qualcosa di quell'impronta rimane certo e l'esperienza del blog è stata come dicevo prima per me è una palestra io ricordo di aver aperto il blog il 12 cyber got si chiamava cyber got sulla piattaforma splendor e il primo post comparve il 12 marzo del 2003 ho cominciato a scrivere in modo in modo incerto devo dire sul blog perché mi ero mi ero circondato anche da altre persone altri autori di quel blog perché non ero non ero così sicuro come come ovviamente lo sono adesso e poi nel 2011 ho deciso di abbandonare la piattaforma splendere di passare a wordpress e lì è per house la nuova incarnazione qui davvero sono solo io da 2011 sono l'unico responsabile delle follie che quotidianamente scrivo lì sopra però ecco sono 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 già un'altra persona a quel punto sono già un altro autore sono già un'altra ho un'altra sicurezza ecco sarei quasi tentato di proporti una sorta di operazione nostalgica io su un blog come potremmo chiamarlo blog aspirazioni e catastrofi a 56k proprio per tirare la somma potrebbe essere un sarebbe interessanti in effetti si in questi mesi sandro stai lavorando alla creazione di un tour connettivo di performance multimediali musica reading e proiezioni sì che cosa ci puoi dire ma intanto non ci sto lavorando solo io perché ho dei compagni di merende o dei compagni di avventura che sono due sono uno è sempre presente luca cremo e che anche artista musicale performer a sua volta due è stefano bertoli che è un musicista un un interprete di sentimenti che rende in musica musica poi che può essere noi se può essere in musica musica ma lui fa fa anche esperimenti di campane tibetane e cose cose affini allo sciamanesimo alla fine anche lui e di genova ma insomma abbiamo in realtà abbiamo fatto la prima la prima l'esordio di questo concerto connettivo l'abbiamo fatto a genova a metà novembre ed è stato un intenso un intenso parlare al pubblico del connettivismo in una modalità live voglio dire il connettivismo ne parliamo su interviste su presentazioni su scritti da da vent'anni ma mi è venuto ci è venuto pensato che il connettivismo in realtà anche un aspetto spettacolare in qualche modo da proporre più immediato più a pelle e come si può fare beh con con la musica con le performance con i reading con le proiezioni con anche con dei dibattiti volendo proporre quindi un format del connettivismo live del connettivismo vissuto in prima linea di fronte a un pubblico questo mi affascina questo vogliamo portare in giro appena possibile per per le città italiane e ed è uno dei delle cose che mi hanno che mi hanno intrattenuto nel 2000 nel 2023 alternativamente alla scrittura è un'idea che è nata da da qualche anno due o tre anni ma in questo in questo frangente storico siamo riusciti a renderlo reale e e ed è una cosa molto 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 affascinante gratificante perché rende molto lo spirito del connettivismo soprattutto con elementi anche non connettivisti e questa la sfida maggiore perché ci sono anche molti musicisti per esempio probabilmente nemmeno che hanno partecipato a genova nemmeno nemmeno sanno cos'è cos'è davvero il connettivismo eppure si sono esibiti in un contesto dark ambient noise industria quant'altro affine al connettivismo perché il connettivismo è comprensivo è è inclusivo di tante realtà è un sistema aperto è un sistema aperto a tutte le collaborazioni e ed è anche un po questa la sua forza la sua capacità di affrontare questo quest'arco di tempo di venti anni da cui è nato fino a che adesso continua esistere in una in una modalità forse diversa ma comunque è un è un tessuto vivo ancora che che ancora molto da dire che anzi ispira ispira altri collettivi mi viene da pensare agli amici della nuova carne per esempio eh che sono un po i nostri figliocci anche se fanno discorsi eh fantastici un po diversi ma non importa non non importa i contenuti importa il contenitore la la forma che 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 si vuole che si vuol dare a delle a delle idee beh molto gratificante il fatto del del concerto connettivo devo dire se mi mi ha preso molto una delle domande che mi piace porre agli ospiti di questo canale una domanda molto semplice che cos'è per te la felicità è un attimo la felicità non può durare a lungo può può essere il coinvolgimento l'emotività la la vibrazione quelle possono durare possono durare forse di più ma la felicità quando è raggiunto un acme un appunto massimo è come andare sull'everest suppongo arrivi sugli 8.848 metri stai lì e che fai e devi cominciare subito la discesa non puoi rimanere lì è un attimo hai raggiunto il punto massimo sei felice hai raggiunto il tuo obiettivo ma devi discendere come io per esempio adoro adoro il sostizio amo chiamarlo buio il sostizio invernale il connettivismo è nato al sostizio invernale del 2004 per esempio ed è il momento secondo me di massima festa perché adorando l'oscurità è un po il trionfo dell'oscuro ma è un attimo perché dopo tre giorni il sole già riprende a salire pure pure sfociando nell'inverno che la stagione che forse adoro più di tutte ma la luce già sta risalendo e la festa è finita è un attimo la felicità è un attimo è il sostizio d'inverno e credo sia una festività molto importante proprio perché anticipa la prevalenza la prevalenza del del sole sullo scuola della luce sull'oscurità soprattutto per chi per chi richiede ricerca la luce ma io non la cerco la luce tant'è vero che un mio progetto di vita sarebbe quello di andare su plutone addirittura perché è buio e freddo e mi permette una solitudine estrema però questo per dire nasce ovviamente però per dire quanto 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 il mio il mio canone sia sia lo scuro piuttosto che lucente progetti per il futuro cosa ci puoi anticipare futuro parte che un'ipotesi come diceva ruggeri però il futuro beh continuare a scrivere dell'impero connettivo continuare a alimentare la collana non a dare no non aline objects chi poll con i suoi infiniti progetti editoriali e e anche spandere il concerti connettivi e abbiamo colgo l'occasione è una notizia che già uscita qualche settimana fa però un altro dei progetti chi poll è un workshop creativo da 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 performare diciamo da da esperire in un in una località abbastanza isolata in realtà che si chiama piana crixia che al confine fra la provincia di savona e quella di asti è un è un pub che che ha che ha una struttura ricettiva alberghiera interna in un bellissimo villone con una scalone vittoriano molto weird io quando sono stato lì sono sono impazzito di brividi e di bellezza perché era un mio vecchio progetto questa questa del del workshop eh l'avevo elaborato ma mi anche mi era sempre mancata la location aveva abbandonato dimenticato proprio l'idea dopo dieci anni nemmeno ci pensavo più sono entrato in quella in quella struttura e io ho visto che che quello lì era il luogo giusto per per questo esperimento kippo quindi un weekend con eh con degli autori che decidono di partecipare a questo workshop con ospiti eh tipo danilo rona e e Andrea Vaccaro che possono illustrare un po' le declinazioni delle e delle collane kippo che ricordano sempre un'impronta connettivista alla fine e e questo è un altro dei progetti a cui mi sono dedicato nel 2023 se tutto andrà bene eh faremo questa 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 esperienza ai primi di aprile il primo weekend di aprile eh in questo in questo questo con nel pub street eh di Pianacrixia e magari se qualcuno è interessato per quote di adesione e e anche modalità eh di di partecipazione può andare a vedere sulla pagina ufficiale della della kippo l'officina libraria questo è un progetto che mi eh che ci che ci che ci che ci rende davvero eh orgogliosi di di essere una una parte della non voglio dire storia ma della 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 del tessuto del fantastico italiano ci piace pensarci in questo in questi termini e cos'altro eh beh qualsiasi qualsiasi esperienza mi permetta di di essere creativo di eh di esplorare nuove 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 zone per me cioè la sperimentazione è infinita non non mi non mi interessa mettermi seduto e scrivere qualcosa di maniera non me ne può fregar di meno ecco proprio detto fuori dai denti voglio voglio creare cose nuove voglio voglio spostare un po' più là c'è anche la la eh l'antologia sempre per chi por la terza frontiera che è un po' il il format che faccio indagare agli autori su cosa è sul confine fra l'umano e l'inumano si è partito con la prima frontiera eh in cui si eh ci si chiedeva eh di cosa l'inumano ha paura si è passati poi alla seconda frontiera in cui c'erano delle suggestioni di Carlo Rovelli Alester Crowley e del buddismo e della e della volontà eh fissate nell'abbazia di Telema di di in Sicilia e e poi si è passati a questa terza frontiera in cui si indaga eh eh l'inner space lì dove comincia c'è il confine fra l'umano e dell'inumano ma nell'inner space ballardiano quindi nella nella propria esperienza interiore soggettiva cosa 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 può succedere quando il rompe l'inumano nella tua nella tua percezione insomma è di cose un format questo qui della terza frontiera a cui ho lavorato personalmente per sei mesi perché prima di dare in passo agli autori un un abstract dovevo capirlo bene prima io ovviamente ci ho lavorato sei mesi ecco un'altra delle cose che ho fatto in questo in questo periodo di tempo eh ovviamente parliamo di cose non commerciali non fruibili facilmente stiamo stiamo sperimentando sulla frontiera e come qualsiasi cosa posta i limiti delle 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 cose eh alle sue cariche di difficoltà per tutti lettori compresi delle cose facili non ci piacciono ne avete a milioni in giro fate voi e poi è il bello non è facile non ci piacciono io vorrei ricordare a chi ci ha ascoltato finora che i due romanzi di di sandro battisti l'impero restaurato e che la terra ti sia lieve sono acquistabili in forma digitale direttamente dal sito della dellos digital quindi andate su google digitate dellos digital sandro battisti sempre dal sito della dellos digital potete vedere tutte le opere curate da sandro battisti vi invito a seguire i profili social della dellos digital per rimanere sempre aggiornati sulle uscite di questa casa editrice e i profili di sandro battisti per rimanere aggiornati su tutte le attività workshop comprese workshop al quale facevamo prima riferimento sandro io ti ringrazio per il tempo che c'è dedicato per la piacevolissima conversazione mi sono sentito un po studente e posso dire dopo anni passati a insegnare è stato bello ritornare tra i banchi di scuola perché veramente è stata una una lezione che spero di approfondire con la tua guida magari in un nuovo appuntamento dedicato proprio al movimento connettivista tu vincenzi troppo io sono 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 davvero deliziato dalla tua dalla tua gentilezza intervista dalle domande che che mi sono piaciute ti ringrazio per per la tua per la tua competenza per la tua attenzione e mi ha fatto sentire davvero a mio agio sei stato davvero ti apprezzo molto ecco grazie un abbraccio sandro grazie a tutti un abbraccio a tutti e a presto ciao